Un ex amico del duca di Sussex, ha rivelato di non parlare più con l'ex reale, dopo che questi ha detto troppo in conferenza stampa. La star della corona Dominique West, ha parlato della sua amicizia interrotta con il principe Ferri, rivelando che i due non si parlano più. Il 54enne, che interpreta il re Carlo III nella popolare serie Netflix, era amico nella vita reale dell'ex reale. La coppia era vicina fino a un errore durante una conferenza a cui avevano partecipato in precedenza. Entrambi hanno preso parte all'evento di beneficenza Walking with the Wounded, che prevedeva un viaggio attraverso l'Antartide. Durante un'intervista a Sunday Morning su Times Radio, l'attore ha confessato. Abbiamo perso i contatti perché, ho detto troppo in una conferenza stampa. Quindi non ci siamo più parlati. Dopo essere stato spinto a rivelare di più, ha aggiunto. Penso che mi sia stato chiesto cosa abbiamo fatto. E? Cosa abbiamo fatto per festeggiare quando siamo arrivati lì? E, io, probabilmente ho detto troppo. Intervenendo a una conferenza nel 2014, il signor West ha espresso la sua gioia per il fatto che Ferri si stesse unendo all'evento. Ha detto, Ferri, faceva parte della squadra. Sembrava specializzato nella costruzione di latrine. Ha costruito questa incredibile struttura a corona con blocchi per tenere lontano il vento, e aveva persino un portarotolo, igienico.